Ma sicuramente di grandi fatti. Allora, io ti avevo fatto una promessa. Perché non guardi, scusami, stai attimilando? Allora, se sei venuto vicino, lui ti... Allora, guarda, bella pallonina. Io ti metto una tanzona, una sorpresa. Ho detto che ti ti fa. Te la senti? Mi sento oggi. Sei sicura? Ma c'è questa scendia. E' un consente per il sistema pronta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.